Hai parlato prima di strumenti di internet, praticamente per superare questa situazione ormai appunto, come hai detto tu, novecentesca. E' stato, credo, dimostrato ormai qual è stata l'influenza della rete per quello che riguarda i referendum quest'estate e anche le elezioni amministrative, se ne è parlato a lungo. Però volevo sapere qual è la tua opinione, quale sarà secondo te lo sviluppo di questa influenza in politica? Sicuramente se ne sono già accorti, perché già per esempio da destra sono piovute critiche dopo le elezioni amministrative e anche il referendum, come tu hai ricordato, a internet, memorabile straguadagno quando ha detto che internet viene utilizzato soltanto da quelli di sinistra che hanno tempo da perdere, evidentemente non hanno capito cos'è internet e non hanno capito a cosa serva, addirittura Schifani aveva detto che Facebook è un po' come il terrorismo degli anni 70, tutte dichiarazioni che fanno rabbrividire. Non a caso l'autorità per le comunicazioni durante la primavera estate aveva cercato di mettere un bavaglio a internet e quindi la possibilità di addurre a sé il potere di di chiudere pura siti internet nel nostro paese con diverse associazioni e con tantissimi blogger e veramente chi capisce quanto internet sia prezioso, siamo riusciti per il momento a fermare questo bavaglio. Questo perché in realtà chi utilizza internet e chi ha amore per la democrazia, ha capito benissimo che tutto passerà da internet, come i regimi siriani, libici, sono riusciti a organizzarsi per deporre i loro dittatori attraverso internet e anche noi in democrazia per risolvere le nostre storture, per abbattere gli imperi mediatici da Mardoc a quello di Berlusconi per riuscire ad organizzarci contro queste oligarchie, contro le lobby di potere, contro chi ha i soldi e quindi riesce a controllare le nostre democrazie, noi passeremo attraverso internet, dal basso riusciremo ad organizzarci per avere finalmente una democrazia diffusa, una democrazia deliberativa. Io al momento ovviamente non ho gli strumenti per dire quali saranno i futuri sviluppi della democrazia che passerà attraverso internet, ma si sviluppa già da sola nelle case di ognuno di noi che lo utilizziamo e quindi sono sicura che fra già pochi anni ci saranno degli incredibili sviluppi e saremo in grado di fare sempre di più. Già ora chiunque di noi può aprire una pagina su Facebook e organizzare una manifestazione, è impensabile fino a pochissimi anni fa. Sì, nonostante questo, appunto, nonostante sia uno strumento molto utilizzato, sempre più utilizzato dai cittadini, sembra che chi governa sia spaventato quasi, come abbiamo visto nel caso di David Cameron con i London Riots, che aveva addirittura ipotizzato l'idea di bloccare i social media per impedire a chiunque di organizzarsi per le rivolte londinesi piuttosto che quello di Manchester. Che cosa ne pensi? In realtà i poteri in tutto il mondo cercano di mettere un bavaglio a internet e Sarcosianet va civilizzato ed è stato lui poi a proporre il G8 della rete, quindi un incontro fra i grandi del mondo dedicato a internet, una cosa che aveva messo a molti paura, alla fine non è stata presa nessuna decisione, ma anche la reazione degli Stati Uniti contro le prime dichiarazioni di Wikileaks, poi adesso hanno messo in rete tutto e su questo non sono d'accordo perché ci vuole il filtro di media responsabili, ma inizialmente quello che sono riusciti a fare, cioè bloccare le compagnie delle carte di credito per non fare avverenti a Wikileaks Wikileaks dimostra come anche quelle che reputiamo le democrazie in difesa della libertà di espressione e hanno paura di internet, perché il potere che viene dall'alto, che è gestito da pochi grandi, da quelli che hanno in mano l'economia e da quelli che hanno in mano la politica, chiaramente è spaventato da uno strumento così potente, potente perché è nelle mani di tutti noi, quindi in tutto il mondo, sia quello più democratico che quello più autoritario, internet è sotto attacco e sta a noi in realtà a difenderlo ogni volta che vediamo che vengono messe le mani su internet, in Francia c'è in discussione una legge veramente pericolosa, in Spagna gli indignados hanno cominciato ad andare in piazza proprio perché stavano mettendo le mani su internet, quindi anche noi che siamo riusciti in Italia a fermare il bavaglio, però dobbiamo sempre stare attenti perché in autunno l'autorità per le comunicazioni potrebbe rimetterci mano, loro aspettano soltanto che noi ci distraiamo per poi sferzare il colpo finale, quindi rimaniamo sempre in guardia. Insomma come è accaduto poi anche per la legge Levi che è entrata in vigore mi sembra il primo di settembre, che era stata discussa credo dal 2007 e adesso finalmente a tradimento è passata. Che cosa ne pensi della legge Levi a proposito? Innanzitutto è sorprendente e forse neanche troppo che sia stato il Partito Democratico a proporre una legge di questo tipo e accantoniamo questo aspetto. Innanzitutto un governo che si dice liberale, che poi vuole controllare le vendite, gli sconti e cose del genere dimostra ancora una volta come di liberale abbia solo la propaganda e invece gli atti concreti sono di tipo protezionistico. E poi non posso che essere contraria a una legge che non permette la libera circolazione dei libri e che vuole imporre dei limiti agli sconti sui libri. In un paese dove in Europa siamo sempre fra gli ultimi a leggere libri, le biblioteche non sono assolutamente promosse, non vi è un piano per incentivare la lettura che invece è alla base della diffusione, non facciamo altro che invece mettere limiti alla diffusione e alla vendita dei libri. Non può che trovarmi contraria, speravo in una ulteriore mobilitazione invece ho visto un po' poco, visto che l'Istituto Bruno Leoni si è mosso, ma anche nei media se ne è parlato molto poco e purtroppo questa legge è passata, vediamo se riusciremo comunque a farla tornare indietro. Tornando al discorso che facevi prima a proposito dei partiti, c'è stata un bel po' di mobilitazione invece anche da parte di giornalisti che ne hanno scritto online, che si sono attivati, che si sono mobilitati per questo, tra cui anche Arianna Ciccone, per la legge Porcellum, cosiddetta. Che cosa ne pensi? Secondo te come andrà a finire? In realtà innanzitutto c'è un po' di confusione, cioè da parte dell'opposizione stessa non c'è una linea comune su come contrastare una legge antidemocratica, detta anche dal suo stesso ideatore, una grande porcata. Questo diminuisce la possibilità di sconfiggerla in realtà, perché c'è chi propone il referendum, c'è chi dice che il referendum è sbagliato. Io personalmente ritengo che non occorra tornare al mattarellum, il mattarellum aveva grandissimi limiti, io sono per un sistema chiaro, un bel maggioritario, un innominale, i cittadini italiani devono sapere chi votano, perché alla base della democrazia c'è poi il controllo, se hai fatto un buon lavoro io ti rivoterò, se hai fatto un cattivo lavoro ti manderò a casa. Il parlamentare con venere incentivato a rispondere agli interessi dei cittadini e non a quelli del capo partito di turno, oppure dell'impresa economica che vuole che una legge passi per fare maggiori profitti. Non vedo questa linea comune, vedo grandissima confusione, ancora una volta il Partito Democratico non è riuscito a organizzarsi per sconfiggere questa legge, oltretutto già un referendum era stato fatto ed era andato molto male. Secondo me sarebbe il momento di organizzare una grande forza all'interno per riuscire a sconfiggere questa legge che veramente sta ammalando ulteriormente la nostra democrazia, perché piano piano la classe dirigente che entra in Parlamento è semplicemente composta da persone che vengono chiamate per rispondere a ordini e se lo fanno bene verranno rieletti, altrimenti non verranno neanche ricandidati e tutto questo ha portato anche alla oltraggiosa compravendita dei parlamentari per far sopravvivere questo governo. Finché non cambieremo la legge elettorale, tutto questo continuerà e quindi la legge elettorale è urgente. Non penso che il referendum per tornare al mattarellum sia lo strumento. Approfitto adesso per leggerti una delle domande che ci è arrivata dai nostri lettori, che è la seguente. Hai mai pensato a candidarti per le elezioni prossime come valida alternativa alla destra? Se uno per candidarsi deve passare attraverso il sì o il niet del capopartito, no, assolutamente, non mi interessa. La politica per me si può fare con tanti strumenti, sia l'informazione libera, un altro è l'attivismo ed è quello che io nel mio piccolo prova a fare ed è quello che sicuramente voglio continuare a fare. Ritengo più utile che invece rispondere a degli ordini dall'alto. Sì, peraltro purtroppo viviamo in un paese in cui il conflitto di interessi è palese. È sfacciato più che palese. A tanti livelli poi. Quello che ti volevo chiedere, visto le notizie che abbiamo letto negli ultimi giorni, ma anche negli ultimi mesi sui giornali a proposito di problemi vari di questo tipo, ti volevo chiedere quali sono le possibilità per una persona che vuole intraprendere questo tipo di carriera se non ha appunto i giusti agganci, diciamo. La carriera politica o giornalistica? Quella politica, intendevo. Io al momento non mi sentirei di consigliare a un giovane di entrare in un partito.